Un buon pineto non va oltre l'1-1 al capo Iprati di Fiuggi al termine di 90 minuti ricchi di emozioni, soprattutto nella ripresa. Il pareggio non soddisfa i ragazzi di Pomante che recriminano soprattutto per due rigori non concessi dal direttore di gara. E mercoledì si tornerà in campo per il recupero con il vasto Girardi. La squadra di casa si schiera con il 4-4-2, i ragazzi del presidente Brocco rispondono con il consueto 3-4-3. Al secondo subito Fiuggi pericoloso con Forgione che chiama dalla sinistra la parata in angolo Mercorelli. Avvio di partita su buoni ritmi con al settimo ma strippolito per gli ospiti a impegnare a Terranovi. Con il passare dei minuti inizia a farsi intraprendente la squadra del presidente Brocco pur senza riuscire a farsi vedere però pericolosamente dalle parti del portiere di casa. Gara equilibrate con poche emozioni ma con gli ospiti che si rivedono al 32esimo con la punizione di Minnozzi ed il colpo di testa di Bartolo che spedisce il pallone a lato. Al 40esimo ancora il giocatore Pinetese effettua un tiro cross insidioso con Novi che blocca in due tempi anticipando Pierpaoli pronto ad intervenire. Spinge la squadra abruzzese ma nel finale di tempo il Fiuggi ha due occasioni per passare. Al 45esimo Proia con un diagonale sfiora il palo di sinistra della porta ospite mentre al 48esimo il Fiuggi ha l'occasione più ghiotta per il vantaggio. Punizione di Del Duca dei 25 metri con la respinta di Mercorelli che poi va a commettere fallo su Gaetani. Rigore per il direttore di gara con Falle che però si fa ipnotizzare dall'estremo Biancazzurro che si riscatta respingendo alla conclusione angolata del giocatore laziale con Forgione che poi mette fuori. Nella ripresa al secondo minuto Minincleri pericoloso per il Pineto impegna Novi in una respinta complicata. Avvio deciso del Pineto che però manca di concretezza in avanti subendo al ventesimo il vantaggio laziale con Del Duca che di testa supera Mercorelli. Fiuggi 1 Pineto 0. Chiedono un fallo i giocatori ospiti ma il direttore di gara convalida la rete fra le proteste Biancazzurra. Brutto colpo per la squadra abruzzese che rischia anche al ventunesimo quando Proia su punizione chiama il portiere della formazione Biancazzurra alla respinta. Ancora Mercorelli protagonista su Gaetani al venticinquesimo con la providenziale parata del portiere pinetese che tiene in partita la sua squadra. Cerca di reagire il Pineto che chiede al ventottesimo un rigore per un sospetto tocco con la mano di un giocatore di casa in area laziale e con il direttore di gara di Cuneo che lascia proseguire. Si arriva così ai minuti finali di partita con il pareggio del Pineto che arriva al trentacinquesimo grazie ad un penalty trasformato da Romano e assegnato dal direttore di gara per un evidente fallo commesso in area del Fiuggi. Su Ciarcelluti parità al capo Iprati con i minuti finali che si fanno incandescenti con l'infortunio al quarantaduesimo dello sfortunato Ciarcelluti sostituito da Mbuba. La gara resta in bilico con Papaserio per il Fiuggi che al quarantaduesimo mette a lato e con al quarantatresimo invece le vibranti proteste del Pineto per un'azione sembrata fallosa in area del Fiuggi ai danni di Minincleri e con il signor Tona di Cuneo che lascia ancora proseguire. L'ultima opportunità è ancora del Pineto con Novi che dice no a Bugaro al quarantasettesimo a Fiuggi finisce uno a uno. Sì sì è stata una bella partita sia da parte nostra che da parte loro è stata una partita giocata a visaperto giocata da due squadre forti. Sì è normale c'è il rammarico per il rigore perché penso sia solare però... E' anche protestato per un altro episodio in area di rigore del Fiuggi un sospetto tocco con la mano? Sì 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 ma anche forse sul primo gol non so se c'è stato fallo su Bertolo del Duca. Anche lì proteste del Pineto? Sì però è normale le proteste che fanno parte del gioco l'errore ci sta dispiace che ultimamente siamo un po' sfortunati però io oggi sono contento della prestazione dei ragazzi perché è stata una prestazione importante come ho detto prima quando è una squadra forte siamo stati bravi nel reagire al loro vantaggio e poi una volta pareggiato sinceramente abbiamo cercato in tutti i modi di vincere la partita perché sinceramente il pareggio non ci bastava e abbiamo rischiato anche di fare gol con Gianluca e poi è normale il rigore di Simone un po' ci ha penalizzato. Non c'è tempo di rifiatare perché mercoledì si torna in campo per la partita con il vasto girato? Sì abbiamo questa è una routine che ormai è un mese e mezzo che sappiamo di dover affrontare e sappiamo che è un mercoledì doveva giocare adesso con una squadra altrettanto forte e abbiamo poco tempo per recuperare però ci sta fa parte adesso questo è un campionato lo sappiamo tutto è un campionato anomalo. Se pensiamo che stiamo al 16 di maggio e al Pineto gli mancano ancora 8 partite mi fa capire che campionato è questo e di solito il 16 maggio siamo tutti in vacanza invece adesso noi dobbiamo giocare ancora altrettanto 8 partite tutte ravvicinate contro squadre che come noi hanno altre partite da recuperare. Un'eventuale vittoria con la squadra molisana potrebbe anche un po' cambiare però a questo punto la stagione del Pineto? No no ma noi non dobbiamo pensare a quello noi la nostra stagione sappiamo qual è è normale che non ci dobbiamo guardare dietro dobbiamo pensare sempre andare più in alto possibile dobbiamo pensare partita dopo partita dobbiamo cercare di andare a Vasto Girardi a fare un'ottima partita come l'abbiamo fatto oggi cercando di portare a casa i tre punti poi quello che avviene vediamo a fine campionato tiriamo le somme e vediamo quello che abbiamo fatto è normale che questa squadra ha le potenzialità per fare bene da quella fine. Non posso dire nulla ai miei ragazzi perché come avete potuto vedere insomma la squadra ha fatto del tutto per portare a casa i tre punti abbiamo fatto ancora un altro regalo però insomma al cospetto di una bella squadra che è il Pineto insomma che da anni fa belle squadre ci riteniamo soddisfatti anche se siamo ancora in rincorsa però insomma la squadra oggi obiettivamente non posso che congratularmi con tutti anche con quelli che sono entrati perché lo spirito quello giusto e diciamo le letture di gioco quelle che piacciono a me sono sono quasi visibili quindi il mio mestiere è questo di riuscire attraverso il feedback riuscire a capire se i miei giocatori forse stanno imparando qualcosa di nuovo. L'ho già detto io ho visto un contatto cercato dall'attaccante perché peraltro io essendo stato un attaccante so perfettamente interpretare questo tipo di situazioni. L'arbitro evidentemente ha capito di non essere tratto in inganno da una giocata intelligente l'intelligenza dell'attaccante dentro la di rigore. Il nostro difensore sicuramente ha toccato però insomma l'arbitro non l'ha fischiato e non deve stare qui a recriminare noi è un anno che dovremmo recriminare dalla mattina alla sera però insomma il calcio è anche questo.